Salve e bentornati. Spero abbiate tutti trascorso un sereno Natale e vi faccio chiaramente, faccio a tutti i miei migliori auguri in questa riflessione post natalizia comunque di transizione, nel periodo di transizione. Eraclide Pontico era un importante pensatore antico, pensate, nato nel 387 a.C., in un suo testo sul piacere, il Peliedonès, racconta la storia di un personaggio di nome Trasillo, figlio di Pitodoro, del demo ateniese di Aissone. Vi leggo adesso il passaggio tra il quale, secondo me, si può trarre una lezione che arriva fino ai nostri tempi. Questo passaggio non è direttamente dal testo ma ci è stato tramandato da Ateneo. Leggo la citazione di Ateneo. Eraclide Pontico nel libro sul piacere narra in modo tutt'altro che noioso di una piacevolissima vita di lusso scaturita in uno stato di follia. Scrivendo così, Trasillo fu preso una volta da una follia tale da credere che tutte le navi che venivano condotte al Pireo fossero le sue. Egli le registrava e le spediva, le seguiva e le accoglieva quando entravano in porto con una gioia simile a quella di chi fosse stato padrone di così grandi ricchezze. Ne faceva ricerche di quelle che si perdevano ma godeva di quelle che si salvavano e visse nel massimo piacere. Ma allorché suo fratello Critone, tornato in patria dalla Sicilia, aiutandolo lo consegnò ad un medico e lo fece guarire dalla sua follia, egli raccontava sovente del periodo trascorso nella follia dicendo di non aver mai maggiormente goduto nella sua vita. Non c'era mai stato per lui dolore di sorta e la quantità di piaceri era sempre stata sovrabbondante. Adesso non parleremo delle tesi che vuole dimostrare erachide. Ma secondo me questo passaggio recuperato dall'antichità si può applicare immediatamente alla situazione della modernità, alla situazione dell'homo consumens e di tutte le problematiche che vi stanno dietro. Se voi pensate, pensate una cosa. La critica che noi conosciamo dell'homo consumens è una critica che proviene dalla sociologia moderna, quantomeno quella più diffusa. Chiaramente si potrebbe fare riferimento alla filosofia tra il settecento e l'ottocento ma anche dal pensiero antico, come vediamo anche utilizzando esempi come quello di Eraclide, che tra l'altro, consentitemi la parentesi, è uno, è il primo che ipotizza la teoria secondo cui la terra ruota sul proprio asse. Pensate, ruota. Un pensatore del 387 avanti Cristo sapeva più cose di quello che sanno oggi oltre 20 milioni di persone nel ventunesimo secolo, le quali credono che la terra sia piatta. Vedete, la crasi tra la ragione e il nostro mondo è qualcosa di spaventevole e per questo si inserisce molto bene questo discorso di Eraclide, ma dicevamo la critica che noi conosciamo dell'homo consumens, della società dei consumi, proviene dall'ambito sociologico oppure dall'ambito poetico letterario. L'esempio più drammatico di tutto questo è Pierpaolo Pasolini. Voi pensate il suo libro, il suo libro, scusate, il suo film ripreso da Sade sulle 120 giornate di Salò. Ripreso da Sade, Pasolini, così come aveva già fatto un certo pensiero negli anni 60, ritrova, riscopre Sade e ne vede proprio uno dei padri della modernità, giustamente. Pasolini trasferisce, traduce Sade in un film, un film difficile da vedere, pieno di un forte messaggio allusivo, metaforico. Per quelli che non l'hanno visto la storia è un po' intricata, ma sostanzialmente il film inizia con questi plutocrati, questi uomini del potere, che guarda caso, attenzione, primo passaggio sottile già nell'inizio del film, si associano a quattro matresse, le quali gli procurano un certo numero di prostitute sulle quali questi avranno il potere assoluto di fare qualunque efferatezza. Questo potere verrà condensato in questo libretto, in un piccolo quaderno, dove ci sono scritte le regole di condotta. Praticamente è estrapolato, è tutto una grande allegoria di quello che lo Stato autoritario, non a caso lui lo ambientassalo, però attenzione per trasposizione anche di quello che è lo Stato nella modernità. Lo Stato scrive le cose sul quaderno delle regole e diventano legge, sulla base di questa legge si può vivere o morire, si può determinare i dannati e i salvati. L'uso che il potere fa del libro, questo ci darebbe un'altra via per parlare moltissimo, ma non lo faremo. Ora in questo terribile, ma profondissimo film che non è da escludere che sia proprio la ragione per la quale oggi la tesi che più si... la tesi che viene più diffusa sulla morte di Pasolini è quella del fatto che lui stesse lavorando al petrolio, al libro petrolio con Cefis e tutta la vicenda Eni e tutto quello che c'era dietro. ipotesi plausibile, però non rispondente a quelli che si intravedono come mandanti o come esecutori dell'omicidio, ossia ambienti di estrema destra. Poiché la critica che Pasolini fa nel film, infatti il film verrà sottratto. C'è tutta una vicenda di cui Citti aveva iniziato, Sergio Citti aveva iniziato a parlare, poi ha avuto un malore e l'è passato a miglior vita e l'inchiesta è stata chiusa nuovamente. Però al di là di tutta retroscena di cui non possiamo sapere, di cui possiamo solo ragionare sopra, il film manifesta una fondamentale violenza del moderno su quelli che subiscono tale condizione. Nel film non c'è, nonostante Pasolini fosse un critico della società dei consumi, non c'è una critica alla società dei consumi. C'è una critica all'arbitrarietà del potere, allo stato autoritario, alla volontà dei pochi che attraverso regole e cooptazione tra le maîtresse e i soldati e le guardie operano sulle vittime, su coloro che sono destinati a subire qualunque qualunque nefandezza, in senso in un mondo in cui la morale diventa extramorale. Tutte queste cose sono fondamentali per riflettere sulla nostra epoca, per riflettere sulla modernità, per riflettere anche su quanto continua ad accadere in questo terrificante momento storico, di cui curiosamente si accorgono in pochi del fatto che sia terrificante. Se voi pensate anche l'accelerazione che gli eventi hanno iniziato a subire a partire dal 2020. La distruzione dello stato di diritto che è passata come inosservata, non che prima stessimo bene, però adesso siamo, si è in una situazione davvero drammatica. La distruzione del significato, il sovvertimento di qualunque aspetto del vivere comune, del vivere civile. Pensate proprio qualche giorno fa, proprio il giorno di Natale, un'altra grande vergogna è accaduta sull'Italia. Non so se questa sia stata diffusa dalla disinformazione generalista, ma io ho provato grande grande dolore a vedere queste persone alla scala che hanno mostrato la bandiera del partito Ba'at. Grande, grande sconvolgimento, grande indignazione. Sapete, per far indignare me sull'Italia, ce ne vuole. E anche la normalità di questa scena che ho potuto vedere, di queste persone che mostravano la bandiera del Ba'at, persone che sono soltanto dei poveretti, degli utili idioti, loro non lo sanno neppure che quella è la bandiera del Ba'at. E tu gli chiedi, loro ti dicono che quella è la bandiera palestinese. Pensate al livello di ignoranza propositiva che ormai abbiamo raggiunto. Tutto questo partecipa delle categorie del moderno. Questi sono tutti dei trasillo, quello di cui abbiamo letto del frammento di Eraclide Pontico. Perché è importante questo frammento? Perché Eraclide dice, vedete, non c'è nessuno più felice del pazzo. Tornando ad un vecchio topos fondamentale, ben noto, del pensiero antico, cui Socrate sarà Socrate, primo grande pensatore etico della storia, quello che porta l'etica dai cieli sulla terra, come dice Cicerone, ad essere quello che risponde a questa domanda, a questo antico topos del pensiero tanto teologico quanto filosofico che dice che in molto sapere vi è molto dolore. Socrate, pensate, questa è una delle conseguenze del pensiero socratico che vengono spesso ignorate. Quando Socrate dice che una vita in cui non si procede all'analisi razionale del mondo, una vita nella quale non si pensa, non si prova neppure a pensare, Socrate dirà molto drasticamente, una cosa che oggi verrebbe canceled, si dice, dalle belve della modernità, perché sono solo belve, sono belve neofasciste, sono belve che non vestono la camicia nera ma vestono una camicia colorata, ma la differenza è poca. Ebbene, Socrate quando fa questa affermazione, oltre a fare un'affermazione molto possente, molto pesante, si pone in maniera contraria rispetto a quella tradizione antica che dice che il sapere è dolore. Lui dice il sapere è vita vera, è una trasformazione radicale, una delle tante trasformazioni radicali operate da Socrate. Vedete? La tesi, ad esempio, dell'edonismo che dice non è importante lo stato mentale, quella di Eraclide, non è importante lo stato mentale in cui sono, l'importante è il piacere, l'edoness, che io ne traggo. La storia ha un qualcosa di paradossale, anche una lezione importante, perché il fratello guarito dirà io non sono mai stato più felice come quando ero pazzo. Questo è un tema che poi riprenderanno moltissimi autori, moltissimi letterati, anche nella letteratura scuola italiana. Pensate appunto a Pirandello, per il quale il tema della follia sarà un tema fondamentale. E vedete, questo ci conduce anche, e poiché siamo nel Natale, è importante fare un riferimento ai Vangeli. C'è un passaggio nel Matteo, nel Vangelo secondo Matteo, quello del cieco di Gerico, che nel racconto che ne fa Matteo è chiamato Bartimeo. Io utilizzo, guardate, utilizzo come testo il Nuovo Testamento del Nestle, un'edizione bellissima, un'edizione veramente stupenda, annotata. E cosa succede nella vicenda del cieco di Gerico? Anzi, dei ciechi, però va bene. Gesù arriva a Gerico. Consentitemi questo piccolo inserto, perché in questo momento è così delirante la nostra socialità che bisogna anche saperne ridere. Non lo direbbe oggi Gerico in Palestina. Sapete che alcuni hanno detto che Gesù era palestinese. Quando la Palestina non esisteva neppure come nome romano. La Palestina sarà un secolo dopo, con la rivolta di Bar Kokhba, i romani inizieranno a utilizzare il termine palestina, che non ha, come dicevamo, niente a che vedere con il popolo palestinese inventato dopo la fondazione di Israele, in particolare dopo gli anni Sessanta, nel Sessantaquattro iniziarono a tirare fuori questo termine. Prima si definivano come sono arabi. Arabi palestinesi, si facevano chiamare, come erano ebrei palestinesi, eccetera. Ora, ci sono stati quelli che hanno negato il fatto che Gesù invece fosse, che Gesù non ha niente a che fare con la Palestina, niente, il concetto non esisteva. I altri apologeti del male che si traveste sempre da bene, e una cosa interessante nella storia comincia con la... comincia... la Bibbia già ammonisce di questo con la vicenda del serpente. Il serpente è proprio il monito, così come l'Iliade ammonisce contro il cavallo di Troia, la Bibbia ammonisce contro l'inganno del serpente. il male che si traveste da bene, il male che vuole fare il tuo bene, il male che dice sto dalla tua parte. Poi il fatto che vi siano in Italia anche dei cattolici praticanti che difendono, stanno dalla parte del massacro e dell'assassinio, che non conoscono, comprendono le correlazioni di cause ed effetto, che non sanno... non lo so che... ai quali mancano le più elementari cognizioni storiche, perché non... è come se si dicesse cattivi gli americani che hanno bombardato i WG, ma... però Pearl Harbor chi l'ha fatto? Chi ha iniziato con Pearl Harbor? Sono cose così elementari che lasciano un po' stucchevole doverne parlare, ma cosa si deve fare quando appunto alla scala ci sono questi utili idioti che fanno queste... che portano la bandiera del partito Baat? E dicevo, mi stupisce a me che cattolici praticanti non conoscano neanche i numeri proprio in questo momento di Natale. Io chiederei a questi personaggi che scrivono che scrivono cose favorevoli ad Hamas ma quanti cattolici ci sono a Gaza oggi? Quelli che hanno fatto, hanno scritto delle cose assurde sul cecchino che ha sparato ad una persona cattolica dentro la chiesa? Come gli ha sparato dentro la chiesa? Vedeva attraverso i muri e lì fanno strepiti. Quanti cattolici ci sono adesso a Gaza? Quanti c'erano nel 2004? Prima? 2005 possiamo anche dire? L'anno in cui Israele unilateralmente decide di abbandonare la striscia? Quanti ce n'erano? Venti volte tanto. La domanda che io vorrei fare ai miei amici cattolici tradizionalisti quanti cattolici ci sono a Bethlehem? E comunque adesso tralasciando forse non cosa dobbiamo fare il problema è che è un tema se voi pensate io ho visto questi giorni di Natale persone che in Israele o in America ebrei americani che difendono il Natale per via degli attacchi ai quali le celebrazioni natalizie sono state sottoposte da parte di Facino Rosi che appunto parteggiano dalla parte dei batisti che loro credono siano palestinesi. ora degli ebrei che difendono il Natale e i cattolici che fanno? Ci sono state delle maestre ho letto in Italia che hanno sostituito nei canti natalizi la parola Gesù con cucù. Non c'è molto da dire è come di nuovo è il male che si traveste da bene che confonde che sovverte tutti i rapporti della realtà e non non vi si può lottare per questo sapete anche le gocce che uno può mettere nel mare del delirio della nostra epoca non serviranno a nulla noi siamo destinati alla catastrofe siamo destinati ad imparare nuovamente dal dolore perché vedete come dicevamo prima gli eventi accelerano noi assistiamo ad una grave accelerazione degli eventi a partire dal 2020 se noi contiamo la quantità di eventi gravi guerre accoltellamenti sovvertimenti sociali a partire dal 2020 ci accorgiamo che c'è una evidente accelerazione ed è naturale attenzione tutto questo rientra in una logica ben precisa c'è un principio che secondo me ognuno dovrebbe conoscere si dovrebbe studiare nelle scuole mentre le scuole stanno facendo un altro mestiere ormai da tanti anni da troppi anni fanno un altro mestiere stanno stanno portando avanti delle programmazioni sociali che sono anti-umaniste nella loro sostanziale natura sono anti-umaniste un anti-umanesimo perché sta associato a poteri di cui non è chiara l'origine non è chiaro perché dei discorsi che si fanno negli Stati Uniti pertinenti a deliri di genere di walkismo non so come si dice in italiano il walk insomma questi svegliati del delirio debbano arrivare attraverso programmi ministeriali in Italia non è chiaro non è chiaro non è chiaro a una persona di buonsenso quello che fa il copia e incolla dice ecco sì perché lo dice il ministero ma perché il ministero va a dire cose così perché il ministero si occupa di queste di queste vicende è tutto molto curioso è come dicevamo il principio che secondo me ognuno dovrebbe conoscere che si dovrebbe studiare in queste scuole che ormai insegnano altro insegnano appunto che ci sono sono temi come si squallidi che non li voglio neanche menzionare guardate non è perché mi preoccupi delle sanzioni qui sulla piattaforma democratica proprio perché sono squallide sono cose squallide come se mi chiedeste di parlare di una casa di lanocinio sono cose squallide ora il principio per la terza volta adesso ci arriviamo il principio che tutti dovrebbero conoscere è quello detto il principio di Chesterton che poi può essere riassunto in maniera molto semplice che è quello secondo cui c'era una volta una bella vignetta sul principio di Chesterton dove c'era un topo che stava per abbattere un muro e sul muro c'era scritto non abbattere un muro se prima non conosci la ragione per la quale questo muro è stato costruito e dietro il muro nella vignetta si vedeva un gatto è la miglior immagine per far capire il principio di Chesterton cioè non demolire qualcosa che è lì da non si sa quanto tempo oppure da secoli senza prima capire il motivo per il quale questa cosa era stata edificata questo muro era stato edificato noi abbiamo perso questo ritegno nel ventunesimo secolo noi la politica questa politica che appunto non si capisce se è eterodiretta oppure se è semplicemente prodotta da persone che hanno perso il senno non si capisce visto che la cittadinanza ha perso il senno potrebbe anche esserci questa correlazione la cittadinanza che vede delle manifestazioni per strada dove ci sono persone con le candele le bandiere di Israele che cantano pacificamente altre manifestazioni dove ci sono persone con la bandiera del Baat che minacciano che minacciano o commettono violenze che gridano che spaccano tutto il cittadino contemporaneo cosa pensa allora quali saranno le brave persone qui aspetta un attimo fammi pensare e sono sicuramente quelli con le candele che cantano poiché abbiamo abbiamo davvero perso il senno vedete il mondo della rete ad esempio contiene una certa democraticità la quale però al tempo stesso rivela la fallimentarietà della democrazia numerica nella modernità perché dico questo e quante persone ci sono online che sanno lo si vede molto bene nei commenti nei commenti che lasciano commenti o provocatori la righetta loro persone che non ci sono che non stanno bene ma perché non stanno bene con la testa non stanno questo questo mare di commenti deliranti o di gente che sa tutto di tutto senza sapere come gente che sono esperti della questione israelo-palestinese poi tu gli fai due se tu gli potessi fare due domande anche questo il fatto di potersi nascondere dietro dietro lo schermo dietro la tastiera rende anche possibile questa tangente della tracotanza in cui io so in cui io ripeto una narrativa e sono bravo e ho capito sono intelligente però tutto questo rivela appunto la fallimentarietà anche del concetto di democrazia numerica in quanto tale cioè di una democrazia antiplatonica Platone dice con chiarezza la democrazia senza distruzione senza la formazione senza la cultura non può essere democratica la rete ce lo fa vedere in una maniera così lapalissiana così chiara perché mentre la comunicazione generalista è una comunicazione controllata diretta eterodiretta perciò ogni contributo ogni contenuto ha sempre delle motivazioni degli indirizzi dei motivi anche ad esempio quello di far diventare la gente più stupida di incrementare il livello di scemenza cos'è la celebrazione che adesso si appresta di nuovo in Italia la tragedia di questo Sanremo cos'è se non un contenuto un contenitore esclusivamente pensato per incrementare la scemenza però si capisce chi sta da chi lo guarda da fuori capisce perfettamente qual è l'obiettivo capisce perfettamente perché lo fanno non lo fanno perché sono semplicemente stupidi anzi tutt'altro sono perfidi ma intelligenti il commentatore che invece ripete non sa di essere una vittima quello che ripete una narrativa oppure quello che si truncerà dietro un muro d'odio i bambini i bambini di Gaza senza non c'è non c'è domanda è narrativa è taci il demico ti ascolta e credere obbedire combattere sono slogan privi di contenuto da persone che non è che ieri si sono occupati dei bambini di Aleppo e l'altro ieri si sono occupati dei bambini dello Yemen e qualche anno prima dei bambini dell'Iraq no non gliene è fregato assolutamente niente 200.000 morti fatti da Assad non li hanno neanche toccati ma non perché però l'individuo contemporaneo non riesce più a rendersi conto delle sue proprie contraddizioni perché anzi più è contraddittorio più è bravo e guardate e tutto questo noi lo vediamo con una chiarezza spaventosa in quell'audizione delle tre rettrici delle università di Harvard MIT UPenn non soltanto nel fatto che non siano state in grado di dare una risposta coerente che si siano trincerate dietro anche menzogne perché loro che nei loro campus hanno dei codici di condotta che sono sostanzialmente contrari al primo emendamento americano che è quello della libertà di parola poi utilizzano il primo emendamento quando questa libertà di parola è per invocare il genocidio degli ebrei ma al di là di tutto questo al di là della pochezza morale della scarsità di quello che tutto questo rivela una cosa che per alcuni di noi è stata sempre la palissiana ma per molte persone sapete ci sono anche lì gli ingannatori e gli ingannati ci sono quelli che lo sanno comprendono molto bene lo stato di decadenza etico morale intellettuale culturale delle università anche questa è una grande questa è una grande ironia della storia che le stesse strutture che sono nate che hanno preservato la cultura per secoli adesso sono diventate i peggiori nemici di quella stessa cultura è una cosa è un'ironia spaventosa della storia ma dicevamo ci sono quelle persone che poiché ne traggono vantaggio da questi sistemi poiché così hanno il loro titoletto con cui vanno al lavoro e sconvolgono fanno gli effetti speciali volevamo stupirvi quelli che ottengono la cattedra ottengono il rettorato tacciono e quanto più tacciono tanto meno se ne accorgeranno tanto meno sarà possibile costruire nuovi discorsi cominciare a ragionare e per questo dicevo è importante questa audizione di queste tre rettrici perché oltre alla banalità delle risposte si vede proprio la pochezza delle persone non che i rettori in genere siano chissà quali grandimenti normalmente chi va a fare il rettore è come chi va a fare il preside in una scuola non sono persone che amano l'insegnamento sono persone che amano un certo tipo di carriera amano avere più denaro amano l'attenzione pubblica e questo e l'altro non sono certamente chi ama insegnare non abbandonerebbe mai il posto di insegnamento per andare a fare l'amministratore mai perché non c'è una cosa più importante soprattutto in una società come questa in un'epoca come questa se non quella di essere un educatore o educatrice soprattutto in un momento di tale delirio andare a fare il rettore significa andare a fare un lavoro amministrativo dunque in genere non sono le inglese si dice i biscotti più intelligenti nel paniere ma non lo so se in italiano si può tradurre questa frase e va bene però ce ne passa dal non essere una grande mente ad essere invece un grande mente ce ne passa si è visto proprio nella capacità con cui queste interloquivano che non oltre a non capire la gravità delle loro domande ma avrebbero anche potuto argomentare in maniera diversa se proprio non volevano rispondere avrebbero potuto dire ai rappresentanti del congresso non si può porre questa questione ad esempio in una maniera così semplice sarebbe stata una risposta un po' più appropriata non lo so oppure avrebbero potuto estendere sul tema del genocidio avrebbero potuto dire molte cose se avessero avuto la qualità mentale per dirle e allora la domanda che una persona che sa ancora ragionare quei quattro gatti che ancora sanno ragionare devono porsi ma com'è possibile che persone così poi arrivano a cariche così fondamentali perché alla fine grazie appunto al meccanismo delle vidimazioni della titolatura di tutto questo scadimento della cultura che rende le accademie nemiche proprio di questa questi creano le classi tra virgolette dirigenti del futuro questo è un disastro se voi pensate Claudine Gay quella della la rettrice la presidente rettrice di Harvard in tutta la sua carriera accademica ha pubblicato 11 papers in genere una persona che studia che prova a ragionare che prova a pensare 11 papers e li scrive prima di aver finito la laurea questa in tutta la carriera ha pubblicato 11 papers e non contenta le ha pure copiate ora allora uno si chiede ma una persona talmente scarsa intellettualmente come può arrivare a quell'incarico ci può arrivare proprio a causa della sovversione completa della realtà in cui ci ha precipitato il ventunesimo secolo noi siamo siamo appunto in quella pazzia che rende il mondo l'home della cultura è la pazzia del moderno la pazzia che descrive la Heraclide Pontico anche lì perché proprio discutevo di questa cosa quando per me una persona che ad esempio dice di essere fascista e non è un violento uno che un criminale uno che crea che fa azioni ma è semplicemente uno che dichiara cose così non è che per me è un nemico non è un mio nemico è un poveretto è una persona che è mal informata è una persona che non sa cosa significa essere fascista che non conosce il fascismo ma proprio poiché ho degli argomenti non ho bisogno di pormi in un'ottica schmittiana di amico nemico come invece fanno questi perché nell'ottica di amico nemico non si impara più io non parlo con te tu non parli con me abbiamo eretto due bei muri e questo è il contrario del discorso culturale e queste università sono ormai da tempo impegnate nella limitazione di qualunque discorso culturale sapete quante persone con le quali loro non si trovano in accordo gli impediscono di parlare quelli che però in congresso dicono che è importante il primo vendamento sulla libertà di parole ora non si deve mai una persona che ragiona che prova a ragionare che prova a pensare non ha mai paura di interloquire con qualcun altro a volte può essere anche può essere una cosa che disturba certamente è molto più complesso è molto più difficile online perché online c'è l'anonimo che non paga in prima persona perciò già c'è una grave asimmetria l'anonimo che si nasconde ma in un dibattito pubblico io non avrei mai nessun timore a scendere io sono stato partecipato in vita mia moltissimi di questi dibattiti aiutando le persone che ascoltavano purtroppo quello che avviene ti dice che io ricordo un dibattito durante il 25 aprile in un liceo classico quando venne invitato a tenere una relazione insieme ad un altro che era del movimento era il figlio di un anche lui nel movimento sociale di questo politico che poi era diventato presidente della provincia regionale ebbene questo qui non aveva idea di che cosa parlasse non conosceva proprio la storia fondamentale fu infatti una cosa come poi il preside dell'istituto mi disse è stato come rubare le caramelle a un bambino però fu importante questo dibattito proprio per far vedere ai ragazzi del liceo la nullità intellettuale che c'è da quell'altro lato attenzione oggi io non credo oggi tutto questo forse non sarebbe più possibile perché manca la capacità cognitiva manca vorrei arrivarci ma stiamo già andando molto inoltre molto oltre comunque stavamo parlando del cieco di Gerico allora il cieco di Gerico nel prendo il passo dell'angelo secondo Matteo si avvicina a Gesù insomma chiama o signore e anzi la folla che stava attorno a Gesù redarguisce questo Martimeo e Gesù invece gli dice dimmi cosa vuoi che io faccia per te bellissima già questa apertura la folla lo redarguisce Gesù intende qualcosa oltre e dice dimmi cosa vuoi che io faccia per te la cosa che la cosa che il cieco dice la cosa che Bartimeo dice è una cosa che noi servirebbe tantissimo nella nostra epoca lui dice signore fa che si aprano gli occhi nostri o che si che si riaprano perché Bartimeo non era cieco dalla nascita ma era uno che aveva perso la vista però vedete non dice toglimi la cecità dice fa il messaggio dei Vangeli il messaggio di questi testi chi non lo sa leggere lo legge in maniera superficiale letterale ma il messaggio di questi testi è sempre infinitamente più profondo e già parte già il lettore attento adizza le orecchie quando sente Gesù che fa una richiesta così aperta quando praticamente gli dà carta bianca dimmi cosa vuoi io te lo esaudirò gli avrei potuto dire voglio un miliardo di scel Gesù già sapeva aveva capito perché leggeva chiaramente l'animo di Bartimeo e la sua domanda la sua risposta è anche in questo senso profonda Signore fa che si riaprono gli occhi nostri la vita il mondo gli eventi avevano chiuso gli occhi di Bartimeo ma qui Bartimeo non parla soltanto degli occhi materiali infatti guardate cosa succede succede una cosa che è straordinaria in questo passaggio evangelico il testo il testo greco dice vedete che viene tradotto a volte erroneamente Gesù venne mosso a pietà ma non è così è sbagliata questa tradizione perché ed esaudì e accontentò Bartimeo ma il testo greco dice splanchnisteis vedete splanchnisteis viene dal verbo splagnizomai che indica un sommovimento interiore dunque questo deve essere tradotto con e Gesù provò compassione e guarì questi ciechi che poi lo seguirono l'ammatonna autonno cai enteos la cecità che il mondo che la vita che la realtà che aveva portato negli occhi di Bartimeo era per lui chiara e quando lui sente passare Gesù gli chiede Signore che s'aprano gli occhi nostri tutto il testo evangelico tutto il testo teologico ma attenzione anche le impostazioni del pensare filosofico sono basate su questo desiderio che si aprano gli occhi nostri non sulla soddisfazione di colui che pensando di sapere finisce come quel matto che conta le navi che rientrano nel porto del Pireo pensando che siano le sue navi pensando di possedere ciò che egli non possiede questo è un passaggio fondamentale quando Gesù chiede va si apre a questo cieco con dimmi cosa devo fare per te perché sente che in quest'uomo vi era questo profondo bisogno di vedere che non è soltanto un vedere fisico è un vedere in cui prima bisogna abdicare alla propria arroganza di sapere vedete tutto questo torna di nuovo a Socrate torna a Gesù torna a quel discorso sapienziale antico che noi non abbiamo più la nostra epoca ha perso in massimo grado uno dei motivi per i quali la nostra epoca lo ha perso perché io ho fatto ho pubblicato quella lezione sulla catena di causalità anche per mostrare tante cose affinché le persone possano iniziare insomma ad avere una una visuale su quella che è la scienza e l'epistemologia che anche quella non viene più in gran parte veicolata perché cosa succede nel momento in cui il pensare scientifico sulla della fisica moderna che è sostanzialmente statistico probabilistica subentra entra nelle altre categorie del pensiero e della cultura cosa succede come avete visto si si deve riesaminare il principio di causalità sul quale già molti si erano spaccati la testa ma succede anche un'altra cosa che è è quella secondo cui la certezza che contraddistingueva il mondo precedente cioè il mondo della fisica classica come abbiamo visto con Laplace ed altri che crolla la certezza crolla quella certezza classica nella fisica moderna il filosofo lui che non che non è uno scienziato interpreta tutto questo come una catastrofe della cognizione dunque una catastrofe della certezza una catastrofe della verità una catastrofe dell'oggettività è proprio lì il problema grave perché una serie di scoperte scientifico matematiche si trasformano nel pensiero filosofico in delle vicende le quali hanno delle profonde ricadute cognitive ma anche ideologiche filosofiche pensate Wittgenstein con tutto il crollo uncertainty ad esempio di Wittgenstein è una roba incredibile da questo punto di vista ed è questo era uno che stava dentro questi circoli amico di Russell amico di Moore amico delle più elementi più fine alcune tra le elementi più fine dallo scorso secolo e nonostante questo interpreta la scienza moderna come il tracollo della certezza il tracollo dell'ermeneutica una penna non è più una penna ricordate la famosa vicenda la famosa storiella secondo cui Russell disperato durante una di queste discussioni chiede a Wittgenstein ma almeno ti troverai d'accordo sul fatto che non c'è un rinoceronte in questa stanza e Wittgenstein si rifiuta di dire non c'è un rinoceronte in questa stanza questo è proprio l'effetto in Wittgenstein c'è proprio l'effetto non soltanto in Wittgenstein ovviamente della caduta della dell'oggettività così come viene recepita dal pensiero filosofico che non è attenzione un qualcosa che ha a che fare con la fisica la fisica ha ancora un concetto un concetto statistico probabilistico della realtà non vuol dire che la realtà scompare vuol dire che deve essere interpretata secondo altri criteri e voi pensate Heidegger ad esempio tra l'altro i due pensatori centrali da questo punto di vista sono dal lato continentale Heidegger e dal lato analitico Wittgenstein adesso Heidegger che cosa farà io credo fosse il capitolo nel suo Nietzsche esprimerà molto con grande chiarezza con grande evidenza questa concezione quando scrive ogni concezione dell'ente e tanto più dell'ente nel suo insieme è già in quanto concezione prospettata dall'uomo riferita all'uomo il riferimento proviene dall'uomo ogni interpretazione di una tale concezione è un'analisi del modo in cui l'uomo si orienta nella concezione dell'ente e si dispone nei suoi confronti l'interpretazione è quindi una introiezione dell'ente di rappresentazioni e modi di pensare umani allora vedete cosa succede qui se potremmo continuare ma è fondamentale questo 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 passaggio perché non lo dice non c'è scritto lui si rifà Nietzsche al prospettivismo di Nietzsche anche se attenzione è sempre importante ricordarlo questo il Nietzsche di Heidegger non è Nietzsche è il Nietzsche di Heidegger è un'altra cosa il pensiero che c'è nel Nietzsche di Heidegger è il pensiero di Heidegger non il pensiero di Nietzsche o quantomeno il pensiero di Heidegger che si sostiene che parte dal pensiero di Nietzsche ora ogni concezione lui dice dell'ente è una concezione prospettata dall'uomo riferita all'uomo cioè è una variante il mettere insieme il protagora dell'uomo in quanto tale misura di tutte le cose di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono appunto l'assioma numero uno della sofistica tradotto o riletto attraverso il prospettivismo di Nietzsche è la fisica moderna o quantomeno l'interpretazione della fisica moderna che ha avuto il pensiero filosofico fino ad oggi perché tranne tranne autori appunto come come Russell oppure autori che o come Gödel e pochi altri tutte le interpretazioni di concetti e concetti della fisica moderna che riguardano appunto la perdita della certezza classica vengono interpretati nel contesto della filosofia della scienza come una perdita dell'oggettività in quanto tale come un tornare completamente semplicemente ed unicamente all'individuo vedete la focalizzazione tanto in Heidegger quanto in Mitkenstein è sempre sul linguaggio come se il fatto di chiamare l'acqua water o di chiamarla vas o di chiamarla acqua rappresentasse una differenza nella sostanza dell'oggetto nominato chiaramente la scienza su questo punto interviene e dice sì però l'acqua per noi H2O va bene ma il referente è sempre lo stesso poi l'oggettività conosce tutta una serie di profondità in molte direzioni ma questo non significa che la cosa svanisca in quanto tale mentre nel processo di dissoluzione dell'interpretazione svanisce anche la cosa in quanto tale già Kant quando propone la cosa in sé come un inconoscibile inizia questo processo di dissolvimento della cosa e questo oltre ad avere le sue conseguenze nel pensiero della filosofia della scienza ma anche ha delle conseguenze funeste tanto sul pensiero politico quanto sul pensiero etico se io parto da questi presupposti non posso più stabilire un criterio di validità etica che sia anche razionale ed assoluto ed universale infatti la perdita dell'universalizzazione è una di queste conseguenze le persone oggi hanno dei problemi quando si universalizza un problema dicono ah ma tu generalizzi ma generalizzi ma figlio figlio del signore tutta la fisica generalizza tutta la scienza generalizza Newton vede una mela che cade e la generalizza nella equazione della gravità universale proprio il processo della razionalità quello di unire insieme il molteplice e generalizzarlo quanto meno della razionalità scientifica e generalizzarlo in quella che nella scienza viene chiamata legge oppure regola oppure paradigma oppure assioma oppure postulato è proprio la modalità della scienza che vedete per colui o colei che non se ne occupano che ascoltano orecchiano nei media oppure che vanno nelle facoltà di etica di filosofia e quant'altro sentono questi discorsi in cui la generalizzazione diventa impossibile crollando nella parzializzazione che è in sostanza un ritornare al mondo primitivo nel mondo primitivo tutto era parziale non esisteva un'unità dei fenomeni infatti c'erano tanti dei quante cose quanti oggetti c'era una divinità per il filo d'erba una divinità per le nuvole una divinità per il pensiero ad esempio romano il concetto del nome nella filosofia del pensiero occulto teologico romano ogni cosa possiede un suo nome che è un concetto appunto teologico animistico premoderno sicuramente che non può conoscere che non riesce a riconoscere e riconoscere la generalizzazione che invece apporta la scienza voi pensate l'equazione più nota più famosa per tutti e uguale mc al quadrato che non si scrive davvero così ma viene presentata così comunque in sostanza cosa dice che e uguale m cioè generalizza un qualcosa di universale in tutto l'universo la massa e l'energia sono aspetti diversi di uno stesso fenomeno ora per secoli noi per millenni abbiamo ragionato anche sulla possibilità di universalizzare determinati concetti filosofici morali etici con tutta una serie di discorsi importanti che sono stati fatti alla fine questo rispondeva alla necessità di identificare categorie come giusto o sbagliato come giusto e ingiusto come male e bene ovviamente in un'epoca in cui tutto viene confuso e ben poco viene ormai capito tutto appare equivalersi tutto appare confuso in una massa in cui io posso prendere a caso e dire questo è buono perché lo dico io vedete il concetto secondo cui alla fine tutto si deve ridurre all'interpretazione dell'individuo ora Heidegger scriverà qui del Mensch Mensch di introdotto con l'uomo dell'essere umano ma cosa cosa produce tutto questo noi non dobbiamo mai dimenticare che Heidegger è un filosofo nazista è inutile quello che ne dicono tutti i suoi apologeti Heidegger è un filosofo dell'epoca nazista i suoi concetti sono sempre imbevuti di questo proto-nazismo perché dico questo perché nel momento in cui io proprio come scrive lui riprendiamo la frasetta ogni concezione dell'ente e tanto più dell'ente nel suo insieme è già in quanto concezione prospettata dall'essere umano riferita all'essere umano il riferimento proviene dall'essere umano ora nel momento in cui tu hai preso questo essere umano così in questa forma e lo hai fatto signore di tutti gli universi lo hai posto al centro di tutti gli universi cosa hai fatto cosa hai determinato qual è la conseguenza di tutto questo è la conseguenza dell'essere umano il quale crede ritiene di conoscere di possedere tutte le differenze in quanto essere individuale nel senso il bene e il male non dipendono da una norma assoluta universale ed eterna a me esterna ma dipendono da me dipendono da come mi alzo io domattina che è la logica del tiranno che è la logica del potenziamento assoluto della volontà di potenza vedete perché c'è il nazismo sempre nel pensiero di Heidegger perché alla fine si torna sempre alla volontà di potenza del singolo che si erge a giudice di tutte le cose di quelle che sono e di quelle che non sono dimenticando tralasciando ignorando e schiacciando elementi invece che dovrebbero essere più presenti a noi come quelli della nostra caducità che per i greci invece era molto chiara ossia la mortalità della nostra irrilevante prospettiva rispetto al cosmo rispetto alla natura delle cose quelle seppur grandi conquiste che noi abbiamo fatto nell'ambito cognitivo e mi riferisco a tutti gli ambiti cognitivi dal pensiero filosofico fino a quello scientifico non sono nulla di fronte ad una sonata di Bach perché dico questo perché ogni nostro sapere è perfettibile persino concetti che per noi sono assodati tranne fa eccezione la matematica in certi suoi aspetti ma concetti che per noi sono assodati come dicevamo l'equivalenza tra massa ed energia un giorno potrebbe apparirci come una forma come qualcosa d'altro così come la gravità newtoniana che noi abbiamo interpretato per secoli come forza con Einstein ci è apparsa come una geometria dello spazio-tempo dunque esiste sempre questa continua perfettibilità che è parte del pensiero scientifico ma che parte anche del pensiero filosofico che è parte di questa eterna una ghirlanda di saperi che ci trasmettiamo lungo i secoli ma la sonata di Bach invece il flauto magico di Mozart non sono perfettibili quando io voglio dare un esempio di perfezione non uso l'atomo non uso il sole non uso la relatività uso il flauto magico dico provate a togliere o ad aggiungere una nota dal flauto magico non lo potete fare non è possibile perché quell'opera è stata creata perfetta e compiuta come se l'arte fosse la più radicale espressione dell'umano e lo è per molti di noi lo è molti di noi non ritengono che sia che non mi sia una disciplina che possa equivalere di rompere del bello nel mondo che produce l'individuo perché quello è il vero evento quello è il vero momento in cui emerge qualcosa che è così e che non potrà mai essere altrimenti pensate tutte le copie che sono state fatte di grandi opere ma per quanto modifiche sapete quelli che sono ispirati ma per quanto possano essere vicine o distante dall'originale per quanto si possa pensate le da Moselle d'Avignon di Picasso con le quali sostanzialmente un tema su cui si potrebbe dibattere diciamo l'arte moderna è uno dei punti d'inizio dell'arte moderna e pensate le dame i canoni è chiaro che Picasso si è ispirato a quel trittico però creando qualcosa che è completamente nuovo completamente altro e un altro artista potrà un giorno ispirarsi da Moselle d'Avignon e tirare fuori un'altra variante un'altra composizione che comporrà questa eterna Irlanda di autenticità che l'umano produce e che non è sottoposta a perfettibilità mentre tutti gli altri saperi sono perfettibili tutti gli altri discorsi tutte le nostre grandi scoperte sono perfettibili anche se in questa loro perfettibilità trovano sempre una universalità a cui che vi soggiace così come nelle Damoiselle d'Avignon di Picasso c'è sotto Canova e chissà altri che le reinterpreteranno quell'universalità che noi chiamiamo il bello e che i greci giustamente ponevano in un trittico trascendentale che è quello del buono del vero e del bello quelle ricerche che rendono come diceva Socrate la vita degna di essere vissuta e che rappresentano quell'apertura verso il cosmo verso l'infinito che forse è il solo grande lusso quello del contemplare come finirà Kant la critica della ragion pratica dicendo ponendo un rapporto tra l'infinito morale in sé e l'infinito morale sopra di sé di nuovo torniamo persino Kant il grande definitore di fronte di fronte a questo tema della potenza della meraviglia dell'etica dell'estetica che l'essere umano per qualche curiosa ragione prova rispetto al cosmo rispetto all'armonia rispetto a tutto ciò che è buono vero e bello non trova altro che una similitudine tra le stelle e l'animo umano anche quello proprio per l'unicità dell'essere umano non perfettibile perché va a comporre quel senso dell'identità l'errore qui l'errore del pensiero moderno è quello di scambiare questa unicità dell'identità che gli antichi avrebbero chiamato la psichè per essere chiari l'anima di scambiare questa fondamentale unicità che non può essere ridotta ricondotta a delle categorie neanche alla categoria dell'interpretazione che questa identità produce di sé e del mondo cioè nel momento in cui voi noi osservate il mondo e ne date dicevamo appunto Picasso guarda Canova il trittico di Canova e crea l'Eda Moselle di Avignon benissimo ha fatto una cosa bellissima ha creato qualcosa di straordinariamente unico una unicità che però non può essere universalizzata come siccome io ho visto le damoselle di Avignon allora le damoselle di Avignon non esistono allora Canova ad esempio non esiste perché io l'ho visto così no non funziona così è proprio la cosa più straordinaria in tutto questo è come l'universale che si rispecchia nel particolare come dice Kant mantiene o nella relazione tra universale e particolare il segno del seme dell'uno nell'altro e dell'altro nell'uno allora oltrepassando la sofistica oltrepassando la fine della certezza oltrepassando le categorie del moderno si può ritornare a quell'antica frase teologica la quale dice ricordate che siete figli di re perché alla base di tutto questo vi è evidentemente una radice teologica perché la psiche è l'anima quantomeno nel mondo occidentale tramite la sintesi tra il pensiero ebraico e il pensiero greco è una scintilla di quell'infinito che attraverso l'associazione rende l'essere umano partecipe degli universali ma non detentore di questi vedete è così abbiamo oltrepassato il relativismo grazie grazie a tutti